Il tuo quartiere ha imparato una cosa solo. E non si tocca. Uffo! Ma che ci fai andare a questo posto di merda? Se l'immortale si può andare, eh? L'immortale è morto. Quella chiave che ci sta facendo tutto quanto. Si m'agge imparato una cosa, è che proprio la mia famiglia, non mi poto sfuggare. Ma che trovo a chi un bastardo, che ci parla da parte dell'aggea schiattata a mea. Ma che ci sia pure la mia figlia. Ci sia l'inferno per capire. Gendarina, in bandacchino, Gans. Come mai sei tornato? Trebuo nostalgia, Gans. Ragazzi! Guglielmo.